Parliamo di Bitcoin, Top News, Grayscale, KuCoin e Hacker, Ethereum 2.0, Ersten Young, Blockchain, Ethereum per le aziende, prima analisi, week 40, benvenuta e benvenuta, ciao Alberto, ciao Ivan, benvenuto a te, quante notizie, benvenuto a te a casa e ci segui, benvenuta e benvenuta, stai con noi fino alla fine perché oggi è una puntata, parliamo di Bitcoin, ricca di notizie tutti i giorni, siamo ricchi di notizie nel mondo cripto, ma quelle di oggi sono una più importante dell'altra, più bullish dell'altra, anche non bullish perché è importante anche fare attenzione alle cose pericolose e cercare la soluzione, lo vedremo dopo, questo riguarda l'hackeraggio che c'è stato sull'exchange KuCoin, quindi rimani con noi, partiamo con la sigla ed entriamo nel vivo. Sigla, vai di sigla. Take your knowledge to another level, lo diciamo sempre per tutte le persone, per te che sei nuovo o nuova, in questo momento è importantissimo conoscere quello che sta succedendo, qui sotto trovi una serie di link che abbiamo preparato e per farti conoscere la nostra visione e per farti conoscere la soluzione che noi abbiamo pensato per coloro che si vogliono avvicinare a questo mondo, quindi guardati velocemente qua sotto, ci sono delle cose interessanti per te che ti stanno aspettando e soprattutto gratuite, giusto Albi? Assolutamente, aggiungo una cosa, stiamo creando una marea di contenuti gratuiti e in funzione del tempo che abbiamo ne faremo sempre di più, tutorial, news, contenuti gratuiti per capire come entrare in questo mondo, ma la cosa base a cui abbiamo pensato è, per acquisire le basi che tu abbia già un minimo di conoscenza o parti da zero, bisogna comunque studiare, bisogna studiare perché altrimenti questo mondo appare più complesso di quanto lo sia, in realtà è semplicissimo, però richiede un minimo di preparazione. Ecco perché abbiamo preparato, come accennava Ivan, un corso base sulla blockchain, bitcoin e le criptovalute, a cui accedi dal link qui sotto, passando dal webinar gratuito che è l'introduzione a questo corso, alla fine ti viene presentato, è un corso eccezionale, abbiamo già tanti allievi, chiamiamoli così, ma sono persone come noi che fanno parte della community, che sono super contente e che hanno già fatto i primi passi appunto in questo mondo, grazie al corso che abbiamo realizzato. Quindi non perdere tempo e accedi anche a quello. Ottimo, ottimo. Vai scusa Ivan, ti ho interrotto? No, no, andiamo con l'analisi, lo diciamo lo stesso, facciamo anche, così poi ci togliamo anche il nostro disclaimer. Quello che vediamo, oggi partiremo un po' al contrario di come facciamo solitamente, partiamo dalle notizie per poi andare a vedere l'analisi del bitcoin e dell'eterno, delle più importanti alla fine, però lo diciamo subito. Tutto quello che vedi in questa puntata di Parliamo di Bitcoin non è da intendere come un consiglio finanziario, non siamo consulenti finanziari, quindi ricordatevo bene, chiaro, non è un consiglio finanziario quello che ti daremo durante la trasmissione del Parliamo di Bitcoin. Vai al big race, che è ritornato le redotti. È ritornata, è ritornata. Ne abbiamo parlato mesi fa, ne abbiamo parlato più volte, frequentemente, perché è un, passami il termine anche se non è estremamente corretto dire così, è un fondo comune di investimento americano, dove si accede con almeno 50.000 dollari, è ormai diventato famosissimo, conoscitissimo, investe i soldi dei propri clienti direttamente in bitcoin, cioè li deve comprare a tutti gli effetti. Durante il periodo dell'Halfing, e dopo l'Halfing è stato uno dei maggiori acquirenti di bitcoin, sta continuando a comprare bitcoin. Ha appena comprato 17.100 bitcoin la scorsa settimana, portando, attenzione, attenzione, la propria percentuale di bitcoin detenuti al 2,4% della totale supply di bitcoin, cioè dei bitcoin totali in circolazione disponibili in questo momento. È tantissimo. Ci sono 18 milioni in questo momento, in circolazione? Sì, mi sembra, adesso non ce li ho, eccoli qua, guarda. Mancano ancora 2 milioni e 7 milioni. Sono 18 milioni e 502 mila i bitcoin già minati e quindi a disposizione delle persone, salvo ovviamente portafogli, quindi wallet che hanno nel tempo perso la loro private key, purtroppo capita, e studiando, infatti nel nostro corso diciamo più volte, attenzione a questa cosa, non deve capitare. Abbiamo proprio una lezione proprio sulle private key, lo ripetiamo 5 mila volte che è la cosa più importante, visto che gestiamo noi il nostro danaro, da conoscere. Ed è uno degli errori più comuni nel 2017-2018, gente che perdeva le private key, eccetera, eccetera. Quindi il 2,4% di 18 milioni albi sono? Eccolo qua, l'azienda ora ha 449 mila e 900 bitcoin. Questa è una notizia super bullish. Poi, attenzione, si potrebbe pensare, 449 mila? Questi qua, nel momento in cui il bitcoin va su, ci guadagnano, li vendono, quindi diventa anche pericoloso? No, perché adesso non lo stiamo a spiegare in termini tecnici. Se i loro clienti vogliono disinvestire, cioè uscire da questo fondo, Grayscale non vende i bitcoin. Liquida i clienti, alza il premio, si chiama il premium, e in modo che quelli che entrano pagano in proporzione a quanto le persone sono uscite. C'è un sistema, adesso, ripeto, non lo stiamo a spiegare qua, ma il concetto è che continueranno sempre ad accumularli senza disfarsi di questi bitcoin. Albi, domanda sincera. Se tu, un'azienda di questo tipo, compra quasi mezzo milione di bitcoin, 449 milione, mancano pochi, prossimi settimane, secondo te che tipo di investimento vogliono fare? Corto periodo o perlomeno 5-10 anni? Allora, conta che questo dipende dalle persone che investono dentro il fondo. Chiaro. Ovvio, l'azienda di per sé, l'azienda Grayscale, ha creato i fondi, tra l'altro ce n'è uno anche in Ethereum, sono due diversi, poi ne hanno anche altri su altri mercati, ma li hanno creati nell'ottica di cogliere un mercato da qui ai prossimi anni. Due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, dieci anni, vent'anni. Poi, i loro clienti, a seconda anche di come vengono consigliati, avranno un orizzonte temporale di investimento più o meno diverso. Però... Ottima news, bello, bello. Vai, passiamo subito alla prossima. La prossima non è bullish o positiva, così come siamo abituati noi a dare notizie, cerchiamo sempre le più belle, le più interessanti, però è giusto tenere gli occhi aperti e parlare anche delle cose brutte o negative che capitano, al fine di tutelarsi e di proteggersi. Allora, alcuni giorni fa è stato hackerato uno dei più grossi exchange e più famosi exchange di criptovalute, cioè KuCoin. KuCoin è stato hackerato e sono stati portati fuori da KuCoin sotto forma di varie monete, Ethereum, Bitcoin, DeFi coins, varie, eccetera. Coreggio, se sbaglio, 150 milioni di dollari. 150 milioni, sì. Ci deve essere comunque 150 milioni di dollari, ne sta parlando tutto il mondo. e tutto il mondo, quindi anche gli altri exchange, si sono alleati al fine di individuare le transazioni, perché tutto è tracciato, quindi puoi capire quali sono i Bitcoin che vengono trasferiti, che sono frutto di hackeraggio, gli Ethereum, stessa cosa, e anche altre monete. Però c'è da dire che siamo in un ambiente decentralizzato, cioè, sì, posso capire che quei Bitcoin lì vengono da una frode da un hackeraggio. Però, se la persona che gli accetta non lo sa o addirittura è connivente, cioè, gli sta bene, non posso bloccare le transazioni. Anche perché il Bitcoin e l'Ethereum è proprio quello, no? È la loro caratteristica. La loro caratteristica. Non si possa bloccare. Al contrario di alcune altre coin che sono state fermate, come ad esempio stablecoin tipo US Dollar Tether e anche Ocean Protocol, sono stati individuati i passaggi di coin fraudolenti e sono stati bloccati, che è una cosa bellissima da un lato perché riescono ad aiutare l'exchange e i loro clienti. Però non è più decentralizzazione. Ti faccio ragionare. Un qualsiasi governo un giorno decide che lo US Dollar Tether è illegale o non gli sta bene, si mette niente ad agire sull'azienda che è responsabile di quella moneta e bloccarla. Quindi bloccando anche i soldi di tutte le persone. Si va contro quello che è la libertà a cui ispira il mondo delle criptovalute e della decentralizzazione della blockchain. Chiarissimo. Però, insomma, oggi ci sono sia coin decentralizzati che coin o token decentralizzati. Ma veniamo al punto. La cosa a cui stare attenti perché gli achiaraggi... Qual è il messaggio che vogliamo mandare a te? Gli achiaraggi ci sono, ci sono stati e purtroppo ci saranno sempre. Ce n'è stato uno anche la settimana precedente di cui abbiamo parlato, Crypto.com dove è andata benissimo. Loro si sono comportati benissimo. Non è uscito nulla dall'exchange però, come vedete, non sempre succede così. In questo caso sono usciti 150 milioni di dollari. E la fortuna e sfortuna di essere in questa fase iniziale di un cambio fondamentale epocale. Purtroppo ci sono anche questi passaggi. Fin quando la macchina non è perfetta come tutto, ci sono anche questi passaggi. Quindi, il messaggio Albi di oggi per questo è? Allora, il messaggio è non mettere, non tenere tutte le uova nello stesso paniere. Allora, primo e punto sempre dito al corso che abbiamo creato ti viene insegnato come essere tu responsabile e gestore del tuo denaro. Perché se i soldi sono su un wallet dove wallet connesso alla blockchain dove tu hai la tua private key nessuno ti può hackerare. Qui stiamo parlando di exchange che sono delle entità che possiamo paragonare alle banche dove tu depositi i tuoi coin i tuoi bitcoin le tue monete l'exchange sa che quelle che hai depositato sono a tuo nome ma in realtà è lui che li custodisce è lui che le tiene è lui che le sposta ok? Sulla base appunto delle tue necessità e sono soggetti ad hackeraggio perché con tutte le transazioni che fanno e muovono milioni e milioni di dollari sono proprio oggetto di mi viene una domanda Albi dimmi secondo te l'attacco è avvenuto su proprio Kucoin o una serie di account che sono poi quelli che hanno meno protezione ovvero quelli che non hanno il 2 key authenticator quelli che lasciano aperto il browser nel loro entrano in Kucoin e poi lo lasciano aperto nel computer no tecnicamente non l'ho analizzata a questa cosa se non ho visto alcuni grafici e sentito anche persone che seguiamo non mi sembra che sia stato una cosa di questo tipo cioè del secondo ipotesi di cui hai parlato quindi proprio hackeraggio direttamente all'exchange Kucoin sì all'exchange scusate sì poi magari mi sbaglio però dovrebbe essere andata così comunque il concetto quello che abbiamo detto è utilizzi l'exchange anche noi utilizziamo io utilizzo personalmente Kucoin utilizzo Binance utilizzo Crypto.com utilizzo Bitrex Bybit Bybit Bitstamp come vedi ne utilizzo abbiamo già nominati almeno 7-8 cioè non ho tutti i miei Bitcoin tutti i miei Coin nello stesso altra soluzione sono gli exchange DeFi o Dex come Uniswap però comportano anche quelli dei rischi meno da un punto di vista di hackeraggio assolutamente meno rispetto a un tradizionale exchange però se voglio mettere soldi fiat quindi entrare con euro per comprare Bitcoin o altre monete il passaggio agli exchange è obbligatorio poi una volta fatto quello che ti consigliamo anche nel corso è di spostarti i tuoi a meno che non ci fai trading sopra o fai spostamenti rapidi di spostare le tue monete i tuoi Bitcoin su un wallet tuo personale dove hai tu la tua private hardware wallet esterno fuori esatto quindi notizia brutta negativa ma importante per capire come proteggersi costruttiva bravissimo passiamo a quella successiva Ethereum 2.0 oggi eh vai oggi parte il allora partiamo così Ethereum 2.0 testnet che è iniziato in agosto e terminerà in novembre si chiama Medulla testnet è un testnet parziale dove al momento ha già staking perché si passerà da proof of work a proof of stake sono due concetti diversi e quindi porterà a per la validazione delle transazioni ad avere invece di avere i miner ci saranno gli staker cioè persone che con almeno 32 Bitcoin faranno parte della rete Ethereum scusami grazie alla coesione faranno parte della rete Ethereum validando le transazioni grazie al fatto che loro hanno in staking questi Bitcoin e guadagnando una percentuale sullo staking bravissimo all'interno di questo testnet oggi parte un testnet quindi un testnet nel testnet quello di oggi è sul MyNet quindi è totale quindi per tre giorni chi aderisce a questo test testerà la blockchain Ethereum come a tutti gli effetti sia veramente già 2.0 durerà tre giorni si chiama Spadina questo test sono nomi anche un po' particolari tutti questi nomi Spadina benvenuti geniari 29 settembre ore 12 UTC che se non vado errato sono le 2 di le 2 di pomeriggio ora ora italiana Roma Amsterdam Berlino tre giorni genesis time sì tre giorni dita incrociate perché qualora questo test andrà dovesse andare come si aspettano i vari programmatori Ethereum i vari coder è molto probabile che la settimana prossima venga annunciata la data di inizio di Ethereum 2.0 questa è una cosa super bullish per quello che riguarda la blockchain Ethereum dove come ben sappiamo gira al di sopra di Ethereum in questo momento il 90% forse di più della DeFi di Compagnia Bell ecco ne abbiamo già parlato anche qui Albi qual è la difficoltà della blockchain perché si vuole tanto questa blockchain 2.0 questa second layer solution questa velocità perché in questo momento ovviamente Ethereum ha dei limiti per tutta la gente che accede e accede quotidianamente alla blockchain Ethereum quindi c'è bisogno di qualcosa di più veloce di più rapido sicuro intelligente ed eccoci qua che ci siamo e meno costoso perché essendo meno costoso vicino alla saturazione la saturazione vuol dire che si blocca tutto semplicemente vuol dire che per far sì che la mia transazione quindi io sposto Ethereum o qualsiasi altro coin che gira su piattaforma Ethereum che sono il 90% oggi sono smart contract devo alzare le fiche pago ci sono stati giorni ad esempio quando è stato lanciato il token Uni da Uniswap dove una transazione su piattaforma Ethereum si arrivava a pagarla anche 20-25 dollari una transazione a prescindere da quanto io spostavo ed è un controsenso per quello che riguarda la blockchain e le criptovalute oltre al fatto di non essere scalabile cioè più di così comunque non posso accelerare le mie transazioni e qui andiamo verso un mondo dove smart contract blockchain criptovalute saranno il pane quotidiano di tutto il mondo ecco perché c'è questo passaggio a 2.0 proprio per aumentare in maniera esponenziale la velocità di transazione la capacità del network della blockchain e mantenere le fee di transazione più basse possibile grande info ok passiamo all'ultima notizia che è fantascientifica perché qui si va verso l'adozione di massa siamo fortunati perché sono quattro mesi dove abbiamo notizie che veramente spingono verso l'adozione di massa un altro tassellino che mancava che riguarda l'ingresso delle aziende quindi delle ma parliamo di grandi aziende non solo aziende piccole ma in realtà tutte le aziende nell'uso della blockchain pubblica quindi non blockchain private come già si sta lavorando IBM sono anni che lavora per la costruzione di blockchain private aziendali però non comunicando servono relativamente prova a pensare a un mondo dove io ho un'azienda che produce un prodotto però non ho la forza vendita e voglio collaborare con un'altra azienda che invece ha la forza vendita e quindi possiamo creare una forza una grossa partnership collaborazione sì prova a pensare se tutto questo potesse essere fatto queste comunicazioni in blockchain quindi condiviso da tutti quelli che fanno parte di quel network lì con tempi rapidi e compagnia belli mettendo in comunicazione tante aziende diverse clienti consumatori produttori fino ad oggi non era possibile da oggi in avanti grazie a Ernest Young per chi non sa chi è Ernest Young lo leggiamo qua comunemente conosciuta come EI a livello mondiale nota commercialmente come EI è un network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale revisione contabile fiscalità transaction e formazione il network che nel 2019 conta ben 284.000 dipendenti in tutto il mondo presente con più di 700 uffici in oltre 150 paesi la sede a Londra ha fatturato 36.4 miliardi di dollari nel 2019 ecco Ernest Young è una delle più grosse aziende network di consulenza aziendale e fiscale quindi altra domanda io ho un'azienda e inizio a essere attratto dal mettere la mia liquidità in bitcoin piuttosto che lavorare sulla blockchain però sono abituato ad avere come consulente Ernest Young o altri consulenti aziendali e quindi mi fido di loro cioè non mi metto io a perché aprire un dipartimento un dipartimento blockchain eccetera ma se mi arriva il mio consulente Ernest Young che mi segue da decenni oddio i tempi diventano ultra rapidi per per entrare in blockchain e prendere decisioni Ernest Young ha appena rilasciato la prima applicazione business per blockchain Ethereum per le aziende adesso è in beta test ma è già pronta disponibile e questo per le aziende è una roba potentissima quindi non fa nient'altro che aiutare innescare quel processo iniziato da microstrategy che ha iniziato a mettere liquidità invece che in dollari su bitcoin adesso qui non parliamo solo di spostamento di liquidità parliamo anche di operatività aziendale tra vari dipartimenti sia interni che di altre aziende sulla blockchain ma è qualcosa di tutto super collegato pazzesco pazzesco questa è una roba pazzesco fantascientifica vediamo come mi è venuta in mente una cosa che stavo ci stavo pensando mentre raccontavamo tutte queste notizie a parte quella degli hacker di kucoin il prezzo avrà già scontato tante volte nei mercati finanziari si dice sell the news e buy the rumors cioè compra quando si dice che qualcosa avverrà e vendi quando esce la notizia secondo te il prezzo di 11.000 già rispecchia o 10.007 già rispecchia tutte queste notizie secondo me secondo me è talmente veloce che non c'è possibilità di immaginare è una mia idea voglio condividerla con te secondo me no anche perché sono notizie proprio di questi giorni comunque sono state nei mesi scorsi super notizie e come vedi a grandi linee da giugno siamo siamo sullo stesso livello di prezzo siamo lì che baliamo sui 10.000 secondo me l'anno scorso bravo sì giugno dell'anno scorso esatto sì perché sono sul grafico settimanale no cioè per me no qui siamo altamente c'è ancora tutto da vedere no no era così stavo pensando e te lo chiedo a di bello eccolo qua quindi andiamo a vedere adesso l'analisi tecnica il prezzo del nostro amico bitcoin grafico settimanale c'è stata la chiusura domenica importantissima e positiva della candela settimanale quant'ha chiuso domenica domenica scorsa ha chiuso qui a la candela 10.700 no 10.780 closing 10.780 perfetto quindi al di sopra di 10.6 dei supporti che abbiamo parlato dei supporti che abbiamo parlato della qui iniziamo a introdurre l'avevi accennato tu la settimana scorsa sto iniziando ad usarla la 21 weekly 20 scusa siamo in Italia quindi la la 21 settimane exponential moving average moving media mobile esponenziale bravissima ecco non mi viene io non ce l'avrei fatto no in italiano mi faccio la vita che storicamente soprattutto per le fasi di bull run è un appoggio eccezionale e lo vediamo lo vediamo qua bene lo vediamo qua da quando ha ad esempio nel 2015 la rotta andando sopra poi non ha mai da ottobre 2015 fino a quando non si è proprio delineata con sicurezza l'inversione quindi l'inizio della fase di bearish gennaio 2018 correzione non ha mai chiuso una candela settimanale al di sotto ma anzi spesso si è andata ad appoggiarsi sia come chiusura apertura o come week e qui stiamo facendo la stessa identica cosa ottimo stessa identica cosa qui eravamo andati giù a marzo evento straordinario qui c'è stata questa correzione delle settimane scorse come vedi solamente gli stoppini si sono appoggiati alla 21 moving average è già passato un mese Albi dalla prima candelona rossa è già passato un mese questa è la quarta settimana si quindi questo ci fa a livello tecnico essere assolutamente anche sul breve periodo bullish o medio periodo perché ripeto domani dopo domani potrebbe comunque il prezzo ancora stornare e andare qua abbiamo questo fammi togliere quella rimetto dopo fammi togliere questo fibonacci retracement qui abbiamo un supporto mensile 9.580 ci può stare secondo me non ci arriverà al massimo al massimo potrebbe fare in settimana un tocco e comunque la chiusura lasciarla rimanere al di sopra della 21 moving average cioè se dovesse chiudere al di sopra della 21 moving average tutto quello che abbiamo visto fino adesso si va a scombinare ma secondo me le possibilità che questo accada sono veramente bassissime Albi questo è weekly so che c'hai già tanta roba provo a partire con una trendline da maggio un po' più indietro di dove sei da sotto come supporto al prezzo un po' più giù ah ok invece di questa sì invece di quella allungarla dove siamo adesso bravo e andare più giù no quanti punti ha due uno due tra questa potrebbe essere sì ma sì sì si può fare da da appoggio e la parte bassa è 10 10.000 anche quello qui in settimana 10.200 10.300 sì ci può stare no no ci sta tutta questa ok andiamo a vedere il daily 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 ecco qui avevo tracciato questa trendline che ha fatto un po' da 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 resistenza però vediamo meglio nel 4 ore nel 4 ore la rotta che c'è andato sopra esatto sabato e domenica la rotta sabato e domenica qui adesso ha fatto un un retouch però è andato al di sotto però beh non è non è super super affidabile questa però insomma comunque segue segue un trend e la rottura di questa definitiva comunque con una chiusura giornaliera al di sopra quindi ritorniamo sul daily con la chiusura giornaliera al di sopra diventa un ulteriore siamo lì eh sì un ulteriore conferma di rottura e ieri come ha chiuso a che livello ha chiuso ha chiuso sopra o sotto ieri ha chiuso sotto ha chiuso sotto 10.690 ma ci sta perché allora al livello giornaliero non ha ancora non l'ha ancora rotta ci si è solo appoggiato infatti infatti guardavo quello di ieri se se la rompe può essere oggi o nei prossimi giorni poi comunque questa si abbassa sempre di più interessante anche domani è fine mese bravo domani è fine mese interessante anche fare un ritracciamento qua a Fibonacci perché abbiamo il 0.382 no scusami sì 0.382 che è un 10.008 che può essere proprio il punto adesso qui di rottura e guarda caso lo 0.5 è stato nel momento in cui ha preso forza nei giorni scorsi è andata su ha fatto da resistenza per poi rimandarla giù appoggiarsi in un'altra trendline alla weekly 21 nel nel settimanale e e poi dopo riprendere ad andare su non c'è bene vediamo come sono ragionamenti così vediamo come si svolge questa settimana siamo all'inizio se avete bitcoin va a 365 giorni all'anno sabato e domenica inclusi quindi mancano ancora 6 giorni per la fine settimana può succedere di tutto annunci che arrivano tra l'altro qualsiasi cosa può succedere aggiungiamo aggiungiamo che come avevamo già anticipato sembra che arrivi questo stimulus dalla fed di almeno 2 trilioni di dollari e di fatti la borsa americana queste comunicazioni qui le ha prese molto bene infatti si è appoggiata su questa su questo supporto ed è rimbalzato in maniera molto forte soprattutto nella giornata di ieri non si è portato dietro con questo rialzo il bitcoin quindi che si stia discollando come avevamo anticipato sia nello scendere non ha avuto quella correlazione così forte anche nel salire non ce l'ha avuta però comunque un mercato stock americano che va su oggi porta giù il dollaro dollar index e lo vediamo infatti ieri dollar index ha avuto una flessione porta su l'oro con sé infatti ieri l'oro ha rimbalzato forse ha fatto un bottom molto probabilmente ha fatto il ha toccato il fondo di questo livello e adesso sta ritornando verso l'altamai e vedremo se lo sfonda o meno tra l'altro c'è stata un'analisi molto interessante e lo nominiamo il buon Alessio Rastani che ha fatto un'analisi sui junk bond adesso non ne parliamo perché non c'è più tempo e anche sull'oro l'andamento dell'oro all'interno di questo canale e correlazione appunto col bitcoin il bitcoin comunque è in un momento anche dal punto di vista dell'analisi tecnica molto sano tra l'altro ha fatto un higher low quindi un basso più alto rispetto al precedente stiamo a vedere in questi giorni ma io sono super super ottimista super positivo anche a breve su bitcoin fai perfetto grande anche oggi ce l'abbiamo fatta a chiacchierare per mezz'ora facciamo sempre il buono proposito magari facciamo meno però le cose da dire sono tante e a noi ci piace dirle in una maniera specifica quindi grazie mille Alberto per le tremende notizie e le analisi grazie a te che ci hai seguito continua a seguirci a supportare il canale grazie a tutte le persone nuove che ci sono aggiunte lasciaci un bell'aicone vogliamo arrivare almeno a 20 like bravo mettilo dimelo al tuo amico o metti un like a questi ragazzi siamo long sui like e long sui follower bravo siamo long sui like almeno a 20 like lasciaci un bell'aicone sottoscriviti al canale tantissime cose faremo commenta facci sapere cosa ne pensi di tutte queste notizie come le vedi tu aspetti positivi negativi costruttivi importante che sia tutto costruttivo e grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata di parliamo di bitcoin ciao ciao belli ciao